Grazie a tutti. Grazie al lockdown non è vero, però a causa del lockdown il tempo ne abbiamo avuto, quindi nel 2020 abbiamo cominciato. Poi quando ho serato appunto che in casa non ci stava più niente, abbiamo detto, no, c'è, no, comunque no, ci vuole il suo tempo naturalmente. Beh, tanta passione penso alla base. Sì, prima avevamo un altro presempio di un altro signore che faceva delle cose bellissime, poi ha scelto un'altra strada, quindi abbiamo deciso di continuare facendo qualcosa di diverso. Abbiamo portato il presempio nel Medioevo, quindi ancora prima del nostro brand, e quindi il castello, i mulini, la cattedrale, i cavalieri. Quindi da dove si parte? Dal castello allora? Il castello, sì, il riferimento al castello è quello del nostro castello, che è costruito attorno all'anno 1000, dove adesso c'era la collegiata. No, no, dove adesso c'era la collegiata c'era un castello. Ah, e che fine ha fatto? Il castello è stato distrutto da tante cose. Quello che è rimasto adesso è l'ingresso. Quando noi arriviamo su in cima, l'ingresso è ancora quello del vecchio castello. Infatti si vedono ancora dove uscivano le grate, appunto, del ponte elevatorio, si vede ancora. Poi abbiamo preso degli spunti, tipo il mulino, perché l'olona aveva parecchi mulini qui, perché l'olona era pescoso, era navigabile, quindi viaggiavano tante cose, mangiare, viaggiavano agli alberi, insomma, tante cose. Il ponte, il riferimento al nostro ponte romano, in realtà, è appunto medioevale. Ah, ecco, bellissimo. Questa è la parte più rurale, diciamo, quando andiamo sulla sinistra c'è la parte più cittadina. E qui va bene Gesù Bambino. Eh, Gesù Bambino, naturalmente, il suo posto. Oggi ci sono anche i remagi. Ci sono anche i remagi. Eccoli là. Perfetto. Bellissimo. Bene, bene. Quindi qui casa rurale, lì, il fianile. No, sì. Quindi costruzioni. Oh, belle. Poi ci avviciniamo alla città. E quindi il palazzo delle corporazioni. Sono tutte quelle corporazioni. Ah, ecco. I grandi comuni di allora, Firenze, Milano, Bologna, avevano appunto le corporazioni. Qui c'è anche storia, è qui, eh? La ricostruzione storica. La casa del Capitano qui l'abbiamo personalizzata in Castiglione. Abbiamo messo su gli ortovioni castiglionesi. Ah, ecco. Giusto per fare qualcosa di... Giustissimo, mi sembra... Perfetto. Poi, altrimenti, in una città a Mediovale non potevano messerci, naturalmente, la chiesa. C'era il fulcro, allora c'era l'imperatore e c'era il papa. Quindi su questa bilancia il Medioevo ha... Ma questa è proprio una copia del... No, 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 no. L'ho costruita secondo alcuni disegni medievali, ma non... Ah, ecco. Abbiamo voluto intendere tutte le chiese, ma nessuna è particolare. Bellissima anche la parte posteriore. Perché a casa non ci sta finita. Ah, sì. E la chiesa è stata la più complessa da costruire. Ma in quanto tempo si è fatto tutto questo? Eh, abbiamo fatto qualche mese. Questi... Ci sono uno, due, tre, quattro... Materiali? Che materiale è? No, il polistirolo. Questo è polistirolo. Mentre tutti i tetti sono in cartone. Naturalmente, prima bisogna andare in fronte del computer, bisogna disegnare... Esatto, poi il pitturare, com'è qui? Disegnato? Poi l'oltre che hai tagliato il polistirolo, lo si deve incollare e poi sistemare. Certo. Il mercato, naturalmente, che uno vuole intendere. Il mercato. Però sono dieci anni di lavoro. Quando lavoravo in casa di rivoluzione, ogni tanto arrivo da succedere.